Vi portiamo con noi nel nostro weekend in Lombardia, nella bellissima Val Chiavenna. Ecco cosa abbiamo fatto il primo giorno. Siamo arrivati a Chiavenna, dove abbiamo iniziato il nostro food tour tra i crotti. Cosa sono i crotti? Delle grotte che fungono da frigoriferi naturali, in cui soffia il sorello un vento freddo di montagna. Abbiamo mangiato tante bontà del territorio, come la brisaula, la slinzeca, la polenta taragna, la salsiccia alla piota, i biscotti di prosto, la focaccia a fioretto e tanto vino locale, nei tipici boccalini. Con la pancia bella piena abbiamo noleggiato due e-bike, abbiamo pedalato fino alle splendide cascate dell'acqua fragia. Per concludere in bellezza la giornata abbiamo raggiunto il palazzo Vertemate Franchi. Qui si trova il quadro di Aloisio e la leggenda narra che se i visitatori non lo salutano si arrabbia molto il suo fantasma di perseguita. Salutatelo anche voi nei commenti e seguiteci per scoprire la parte 2.